La Cima Coppi è il punto più alto raggiunto dal Giro d'Italia. Non è un luogo geografico vero e proprio quanto piuttosto l'asticella che segna il limite massimo dell'ambizione degli scalatori. Cambia ogni anno ma spesso, come quest'anno, è il Passo Pordoi, 14 volte re della montagna con il passaggio ai 2239 metri di altitudine. Nessun altro passo dall'istituzione della denominazione di Cima Coppi nel 1965 ha avuto così tanti primati. Peraltro la provincia di Belluno spesso regala il punto altimetrico più alto, 5 volte le 3 Cime, 3 il Giau, 1 il Valles, 1 il Valparola. Cima Coppi nasce 5 anni dopo la morte di Fausto Coppi ma è significativo come il mito del campionissimo piemontese fiorisca proprio sul Pordoi. 5 maggio 1940 la tappa è la pieve di Cadore Ortisei. Sul passo ci sono due uomini in fuga, Bartali e Coppi, che ha inizio Giro al suo giovane Gregario e che in quel momento però indossa la maglia rosa. Coppi è in difficoltà alle prime salite e medita di mollare. Bartali lo aspetta e lo sprona. A un certo punto gli butta pure la neve in faccia per farlo riprendere. Ginettaccio scollina per primo, Lerone lo segue e successivamente vince il Giro. È la consacrazione per Coppi e anche per la rivalità tra due grandi ciclisti.